Salve amici del Centro Meteo Italiano. Fine settimana dai due volti sull'Italia, con maltempo a tratti intenso ed una veloce rimonta dell'anticiclone. La giornata di sabato infatti sarà caratterizzata da piogge diffuse sulle regioni adriatiche al sud per l'approfondimento di un campo di bassa pressione che dal basso tirreno si muoverà verso i Balcani entro domenica. Attenzione anche a qualche nevicata sui settori appenninici di Marche, Abruzzo e Molise, dove i fiocchi in nottata potranno scendere localmente al di sotto dei mille metri di quota. Temporanea rimonta dell'anticiclone nella giornata di domenica, con residue piogge al sud e temperature in aumento al centro nord. Un'altra veloce fase di maltempo è attesa lunedì per il transito di un altro centro depressionario in spostamento dall'alto tirreno verso le estreme regioni meridionali. Per tutti i dettagli su queste nuove fasi di maltempo vi invitiamo come sempre a seguire sia il nostro sito che il nostro canale YouTube. Un saluto da parte del Centro Medio Italiano.